Come guadagnare soldi e criptovalute a settembre 2022 Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Oggi vi farò vedere le diverse possibilità dove possiamo andare a guadagnare soldi e anche criptovalute gratuitamente Ma prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi ulteriori contenuti video simili a questo E mi raccomando, c'è il link sotto in descrizione di Telegram Dove ci sono veramente tantissime, tantissime possibilità Dove noi comunque possiamo andare a guadagnare in una maniera completamente easy Ovviamente dico i vari passaggi, spiego diciamo molto di più approfonditamente quanto riguarda metodi di guadagno Infatti oggi andremo all'interno del mio gruppo Telegram e vi guiderò, vi farò vedere le opportunità di settembre 2022 Ed eccoci qui, siamo nel mio gruppo Telegram Top Coin Italia Vedete, ho 1200 iscritti, ma ragazzi sicuramente manca qualcuno di voi Quindi qualora siete interessati a vedere le promozioni attive, vi lascio il link sotto in descrizione Allora qui c'è Tinaba, con Tinaba riceviamo praticamente 20€ subito, immediatamente E poi se invidiamo comunque un'ulteriore persona andremo a guadagnare 20€ a persona, ok? Massimo 5 invidi al mese In questo caso bisogna comunque registrarsi tramite ovviamente il mio link sotto Eccolo qui, tramite questo Dovete più che altro verificare i vostri documenti in maniera molto ma molto rapida Quindi dovete inserire per quanto riguarda nella registrazione vostro nome, cognome, data di nascita, dove siete nati, dove state Cioè, tutti questi semplici passaggi che praticamente poi vi porterà comunque a verificare il vostro documento Quindi in quel caso carta di identità, pure cartacea va bene, non ci sono problemi, tanto è tutto gratis E basta depositare 10€, che poi comunque questi 10€ sono immediatamente prelevabili E riceverete comunque 20€ di bonus, ok? Quindi in questo caso in una maniera completamente easy, facendo, diciamo perdendo 3 minuti del vostro tempo Avete fatto 20€ Quindi in questo caso qua c'è soprattutto la prova Vedete? Movi venendo i miei 10€ qui Poi ho fatto più 40, più 40 E sono arrivato praticamente a 90€ E guardate la data Tutto in un giorno, ok? Quindi veramente, veramente easy Seconda promozione Che comunque è attiva Però ha subito una variazione In questo caso verse Regala 5€ Basta scaricare comunque l'applicazione Tramite questo link Ok, quindi voi praticamente Se avete la smartphone, ok? Basta cliccare qui Poi vi dovete scrivere fornendo i vostri dati Incluso anche e soprattutto il numero di telefono Collegare una carta al profilo Questo perché? Perché praticamente comunque dovete sempre depositare 5€ Ma sono prelevabili Quindi voi che fate? Fate sto passaggio e poi Li prelevate, ok? Quindi in questo caso Dovete collegare una vostra carta Inserire questo Perché se no Non funziona il bonus Quindi dovete inserire forza un codice Ok, il codice è questo qui Quindi il codice referral Verificare l'identità Caricando una foto Front e retro Del proprio documento Ed un selfie Nella sezione documento D'identità e limite E poi dovete depositare 5€ E comunque andrete a ricevere ulteriori 5€ bonus Ma ripeto Tutto questo è gratuito Potete anche e soprattutto invitare un massimo di 20 persone Quindi in questo caso è veramente easy E già con questi due metodi che bene o male comunque si fanno in 5 minuti entrambi Ok? Ed è già fatto 25€ in una giornata E potete prelevare Quindi veramente veramente easy Se invitate ulteriori persone ovviamente vanno a raddoppiare Quindi mi raccomando ragazzi Tutto questo Tutti questi link che vi sto indicando Sia sono sotto in descrizione Ma soprattutto nel gruppo Telegram Buddy Bank Eccola qui Eccola qui Di nuovo la promo Cioè questa volta il bonus di 25€ di bonus Più 25€ di bonus per ogni amico invitato Quindi basta registrarsi tramite questo link Ok? Effettuare comunque Diciamo la verifica dei documenti Quindi nome Cognome Le solite cose Ok? I soliti passaggi Poi ovviamente dovete verificare con la carta di identità E dopo che avete verificato Dovete effettuare una transazione da 10€ per ricevere il bonus Quindi in questo caso basta depositare 10€ E poi comunque potete andare a invitare un amico Per ricevere 25€ di bonus Fino a 250€ Ok? Il codice promo è questo qui La scadenza qui esce scritto comunque che è già scaduto Ma l'hanno rinnovata Quindi ragazzi state tranquilli Anche perché mi ricordo che nella vecchia promozione In questo caso non è terminata Ma in quella vecchia sì Ma ho ricevuto praticamente 80€ a distanza praticamente di mese Quindi state tranquilli che questi sono ulteriori soldi easy E in questo caso andiamo a ricevere 50€ totali Più se invitiamo ovviamente persone In questo caso riceviamo 275€ Se andiamo a completare ovviamente il tutto Eccolo qui la promozione trading 2.1.2 fino a 100€ Quindi in questo caso basta registrarsi tramite questo link Ok? Poi comunque dopo che vi siete registrati E avete inserito comunque i vostri dati Nome, cognome, data di nascita E verificato comunque il documento Basta inserire il codice promo 11Q8SLUC Ma ovviamente in questo caso Se siete da smartphone è tutto in automatico Oppure copiate direttamente qui E incollate Ok? Selezionare trading 2.1.2 invest Depositare 10€ E in questo caso Il giorno successivo Comunque andrete a ricevere Un'azione Dal valore massimo di 10€ Quindi in questo caso C'è un'altra promozione interessante Ok? Vediamola qui Street Beat Ok? Vedete? Guardate quanti Questa soprattutto è la mia prova Di pagamento Ok? Quindi continua sempre a scendere Sempre a scendere Quindi funziona In questo caso Che dovete fare? Qui c'è il link Per registrarvi Ok? E senza deposito Potete ricevere Massimo di 3.000 dollari Di bonus Ok? Poi Ovviamente Dovete inserire Per quanto riguarda Il referral code Perché se no Non vi arriva Diciamo Il bonus E il gioco è fatto Puoi invitare comunque Ulteriori persone E riceverete Ulteriori bonus Da un valore massimo Di 3.000 dollari Poi Ovviamente Ci sono anche Tante altre Promozioni Come ad esempio Actio Bitpanda Quindi c'è Veramente Di tutto Trading 2.1.2 Da già abbiamo parlato Qui c'è Trade Republic Ovviamente Qui la promozione Di 10 euro Attualmente Ma Già In questo caso Comunque Se riuscite Comunque Andare a fare Tutto Sono 500 euro Facili Facili Ok Poi c'è il bonus Bitpanda Quindi basta Registrarvi tramite Questo link Bitpanda Più che altro Un wallet Che offre 10 euro Di bonus Più 10 euro Per ogni amico invitato Registrazione Verifica dei documenti Molto rapida Deposito Di 30 euro Subito Prelevabili E effettuare Un acquisto Di 25 euro In bitcoin Stable coin Per ricevere Il bonus Quindi si possono Anche e soprattutto Rivendere E ritornano Sul proprio saldo Invitare un amico E ricevi 10 euro L'accredito Del bonus È immediato Dopo aver seguito Tutti Gli step Ok Poi ragazzi Ci sono veramente Tanti altri Che comunque Non vi faccio vedere All'interno Di questo video Vi lascio Il link Sotto In descrizione Del gruppo telegram Perché ok Ci sono veramente Tante tante robe E sempre questo qui Che è Una mystery box Dal valore Di massimo 2000 dollari Qui 3 euro A persona Tap global Simile a street beat Qui ci sono tutti I vari passaggi Vi lascio Il link Sotto In descrizione E ovviamente Per questo Video È tutto Questo video Vi è piaciuto Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Le notifiche E non perdere Di ulteriori contenuti Del genere E noi Ci vediamo Domani Con un prossimo video Ciao E a presto